è tutto pronto a torino per i campionati europei di short track 2017 in programma dal 13 al 15 gennaio al Palavela arriveranno quasi 150 atleti in rappresentanza di 28 nazioni è una nazionale molto competitiva tutti i 10 avranno l'opportunità di fare la stafetta a livello maschile facciamo correre Dotti, Cassinelli e Viscardi e a livello femminile facciamo correre Fontana, Peretti e Martina Valcepina non è la prima volta che Torino ospita i campionati europei nel recente passato sono arrivati sotto la molla nel 2005 e nel 2009 è ospitato numerosi altri eventi internazionali di short track le università del 2007 e soprattutto le olimpiadi invernali del 2006 ogni volta che torno a Torino le emozioni sono sempre tante le olimpiadi sono state il mio sogno che si realizzava quando sono entrata qua nel palazzetto lunedì mi sono rimaginata tutto quanto com'era il pubblico i miei genitori che erano là nell'angolino quindi i loro sorrisi, le urla di gioia quindi ho avuto un bellissimo flashback quindi spero che anche qui riesca a fare delle belle gare soprattutto perché da casa viene anche un pullman di 50 persone quindi avrò un bel sostegno anche dai miei compaesani quindi proverò sicuramente a fare il mio massimo cercare di fare delle belle gare e di divertire il pubblico io sono fiducioso che comunque da quello che dimostrano in elemento qui a Torino con la spinta del pubblico con l'aria d'Italia ci spingerà verso il 2017 importante e soprattutto verso il 2018, l'olimpiadi l'anno prossimo